Il turismo è uno dei settori più importanti, se non il più importante, dell'economia altotesina. Le strutture ricettive in provincia di Bolzano sono conosciute per l'alto standard di qualità offerto ben oltre i confini locali. La professionalità degli addetti ai lavori è garanzia di un servizio d'eccellenza. È stato l'assessore provinciale al turismo Hans Berger a presentare nella suggestiva cornice del Wilpianerhof la proposta per aggiornare il sistema di finanziamento dell'intero settore. L'Alto Adige non è certo una destinazione turistica low cost, il target della clientela si è ormai consolidato. I tempi però sono cambiati, la concorrenza è più dura, si affacciano nuovi mercati. Il nuovo sistema di finanziamento si basa su tre diversi livelli di contributo. I tre pilastri sono quelli che il finanziamento e la sicurezza della base finanziaria, è basata sul pilastro primo che è la parte del cliente, il contributo del cliente di 50 centesimi fino a 1,50 euro, che con 29 milioni di pernotamenti, con l'esenzione della gioventù fino a 14 anni dovremmo arrivare a un gettito di circa 20 milioni di euro, 22. Poi il secondo pilastro è quello del finanziamento pubblico che già oggi finanziamo la SMG e anche la associazioni turistiche con circa 20 milioni che anche in futuro rimarrà così e la terza parte è la contribuzione obbligatoria delle categorie che partecipano al valore aggiunto del turismo, che anche loro facciano qualcosa in senso, in modo obbligatorio e non facoltativo come lo è oggi. Il contributo a carico dell'ospite verrebbe riscosso a livello comunale e oscillerebbe tra 50 centesimi e 2 euro per ogni ospite e pernotamento. Chi si dice contrario, secondo Berger, non ha valutato attentamente i benefici della proposta. Quello che sono contro io le devo dire è che si guardino bene il contenuto dell'iniziativa perché chi può essere contro una cosa che va a vantaggio proprio, perché questo non è una tassa, ma i soldi incassati non vanno spesi per altre cose, ma i soldi vanno spesi per il turismo. C'è un vincolo assoluto e per quello è un autofinanziamento del settore con aggiunta di soldi pubblici. Chi può esserci contro? Io non lo capisco. Il settore del turismo è cruciale per lo sviluppo economico e sociale. In Alto Adege un posto di lavoro su 5 è legato in maniera diretta o indiretta al turismo. La spesa media giornaliera dell'ospite ha toccato i 119 euro. Complessivamente la spesa del turista per i consumi ha raggiunto 3 miliardi e 700 milioni di euro all'anno.